Grazie, Presidente. Governo, colleghi, il 1 maggio questo Governo è partito con il provvedimento che ha chiamato decreto lavoro. Il 1 maggio è una data molto particolare, speciale, appunto per i lavoratori, che devono essere messi al primo posto. Ma lo sono veramente con questo decreto? No, non lo sono. Purtroppo non lo sono. La visione purtroppo è chiara. Questo Governo emana provvedimenti per tutelare i poteri forti e schiaccia i deboli. Distrugge il reddito di cittadinanza, una misura che da anni la ritroviamo in tutta Europa. In Italia questo Governo decide di fare cassa sui deboli, sui fragili. Noi ci chiediamo perché. Una risposta ce la siamo data. Perché era una misura del Movimento 5 Stelle. Allora guardate. Cambiate il nome, fatelo vostro. Togliete al Movimento 5 Stelle la paternità di questa misura, ma non danneggiate i più fragili. I criteri stringenti e ora predisti per l'assegno di inclusione, perché l'avete chiamato in questo modo maimè, è una misura veramente molto critica, lasceranno fuori anche alcuni disabili e le loro famiglie. E qui ricordo una mamma, una mamma pugliese, una mamma sola, non aveva il marito, con una figlia con una disabilità molto grave. Lei viveva con la mamma, perché non aveva un tetto, la mamma l'aiutava come poteva. In periodo di Covid mi chiese, io ho bisogno del reddito di cittadinanza perché io non posso andare a lavorare. Perché la problematica di mia figlia è così particolare, perché devo starci io tutti i momenti lì insieme a lei. E non posso permettermi di pagare qualcun'altro. Mia madre è già tanto, quella che è anziana, che sta qui, che ci ospita nella sua casa. È riuscita poi a avere il reddito di cittadinanza. Quindi immaginate come quella famiglia ha trovato l'equilibrio. Io mi chiedo adesso, adesso che cosa succederà in quella famiglia? In questo provvedimento sapete cosa dovevate inserire? Per i lavoratori, per la loro dignità, per diminuire realmente la povertà, la disuguaglianza, quello che abbiamo inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma noi parliamo, il Governo parla slogan, ma poi fa il contrario. Doveva inserire il salario minimo. Il 17 maggio, in Piazza Roma, con il Presidente Giuseppe Conte, con il Movimento 5 Stelle, vi erano 20 mila persone. Perché? Perché hanno capito qual è la parte giusta. E mi ha fermato Giovanni. Giovanni mi ha detto, oh, onorevole, io prendo 4 euro all'ora. E secondo lei io ci arrivo a fine mese con 4 euro all'ora? No, non ce la fa. Questo mi raccontavano. Questo raccontavano quel giorno che ci incontrava, perché noi stavamo lì con loro nella piazza. E loro ci dicono quelle cose che voi ci bocciate negli emendamenti. Cosa strana anche. Com'è possibile che non ascoltate nemmeno più il Parlamento? Miliardi di euro previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A che punto siamo? Siamo a zero. Livello zero perché le regioni, anche quelle da voi amministrate soprattutto, non hanno assunto nemmeno la metà degli addetti nel settore lavoro. Dobbiamo fare figli perché la nostra popolazione è piuttosto anziana. Ma io dico con che coraggio noi chiediamo ai nostri giovani di fare figli. Quando li abbiamo dato? I voucher. Fino a 15 mila euro all'anno. Quindi un lavoro precario. Quando ci sono i tassi di interesse alle stelle e non abbiamo fatto nulla, ancora nulla, fa questo Governo per permettere ai nostri ragazzi di mettere su famiglia, di avere un tetto sulla testa. Il Governo non interviene, i salari da fame. E l'altra cosa che lascia veramente molto perplessi e sembra un passo veramente indietro, questo sbilanciamento sui contratti, a favore del datore di lavoro. Quindi date questa possibilità, se non c'è una contrattazione collettiva, di trovare un accordo fra le parti. Ma immaginate in che modo possono essere sfruttati quelli che sono alla fine i nostri figli. Anche il Presidente della Repubblica vi ha ricordato con le sue parole La precarietà stride con la crescita e lo sviluppo. E noi diciamo che dobbiamo far crescere il Paese, dobbiamo tutelare il Made in Italy, dobbiamo tutelare le famiglie. Ma come? Come? Stiamo andando nel senso contrario. Questo Governo non ascolta. Non ascolta appunto nemmeno il Parlamento. Sapete quello che dovreste fare? Qui chiudo veramente questo mio discorso. Un consiglio. Un consiglio è quello di dare supporto. e finanziare le nostre piccole e medie imprese, perché sono loro che creano il lavoro. Il nostro terzo settore. Quindi la sanità. I servizi. Chi effettua un servizio di cura verso l'altro. Perché questo è il futuro. Dobbiamo creare lavoro utile. Serve per le famiglie italiane. Ma serve anche per aumentare il prodotto interno lordo. Serve per mandare avanti l'economia italiana. E quindi quello che non dovevate assolutamente fare, ma avete fatto anche questo, è di finanziare l'industria delle armi. Nessuno, guardate, vi chiede, fra i cittadini. Andate nelle piazze e chiedete loro, volete che diamo i soldini a quelli delle armi? No. Vi diranno, noi abbiamo bisogno di avere delle azioni nella sanità, di avere degli asili, di avere supporto, di avere un lavoro, un lavoro dignitoso. È questo che vi chiedono. E per questo noi del Movimento 5 Stelle saremo sempre dalle parti dei cittadini. Dalle parti di chi ci chiede di intervenire al loro favore. Perché questo governo non lo sta facendo. Grazie.